Grazie a tutti. Gargano. Mucci. La votazione è chiusa. Presenti 441, votanti 437, astenuti 4, maggioranza 219, farò di 161, contare 276, la Camera respinge, 6.5, Salta Martini, onorevole Marcon. No, mi scusi, Presidente. Volevo intervenire per rettificare il voto del SEL, sinistra italiana, sul 6.3 Daga. Erroneamente il gruppo ha votato per l'assenzione, ma in realtà la nostra posizione era a favore di questo emendamento. Grazie, rimane agli atti. La ringrazio. 6.5, Salta Martini. Nessuno chiede di intervenire. Parere contrario. Oratore del Governo. Votazione aperta. Sgambato. Dattorre. Dattorre. Onorescotto, io non vedo se non vede Dattorre vota, quindi lei mi si dovrebbe sedere in maniera che io riesco a percepire qual è l'espressione del voto del suo collega. Pilozzi. Ma ha votato? Sì. Pilozzi. Altri? Villa Rosa. Villa Rosa. Bene. Altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 445, votanti 336, astenuti 109, maggioranza 169, favore di 60, contraria di 276. La Camera respinge. Siamo al 6.6, Brugnerotto. Nessuno chiede di intervenire. Parere contrario, oratore del Governo. Votazione aperta.